La vara di Maria Santissima Annunziata è ritornata per le vie di Racuia. La comunità è stata in festa riprendendo i riti religiosi e la processione per le strade del paese e non sono mancati anche gli spettacoli, ospiti Sasa Salvaggio e Mario Incudine. La nostra comunità si può stringere nuovamente attorno al carro di Maria Santissima Annunziata, la nostra protettrice e finalmente abbiamo potuto accompagnare in strada nella classica processione la nostra santa protettrice. Un incontro toccante e importante con la presenza di tanti sindaci dei comuni vicini a testimonianza del momento importante di comunione non solo della nostra comunità ma anche delle comunità vicine. Abbiamo dato la possibilità alle persone di tornare nuovamente a vedere tra le strade del nostro paese la statua della Madonna Annunziata e abbiamo avuto anche la possibilità di avere in mezzo a noi il Vescovo che ha celebrato l'Eucarestia. Noi vogliamo sempre fare in modo che questa festa possa essere partecipata il più possibile. Il Vescovo ha dato dei grandi suggerimenti, dei consigli a ciascuno di noi e abbiamo la sua benedizione. Vogliamo sempre che possiamo rimanere dietro la Madonna. Ecco, questa giornata ci deve essere per noi di esempio, di richiamo per tutti i giorni, non solo oggi, lo sappiamo. Ecco, oggi è stato un bel momento, continuerà con lo spettacolo, con i giochi d'artificio, con tutto quello che si fa in queste celebrazioni e vogliamo che veramente possa essere una festa della comunità di Racquie.